Musica Tutti con l'Arezzo, un partecipatissimo corteo partito da Piazza della Libertà sotto Palazzo Cavallo per arrivare poi allo stadio comunale prima di Arezzo Pro Piacenza Una manifestazione aperta a tutti i tifosi, i politici, i cittadini, alle squadre giovanili e a chiunque avesse a cuore le sorti dell'Arezzo Un modo per colorare di amaranto le strade della città e gridare forte l'orgoglio di essere retini Esserci oggi per esserci domani, questo uno dei motti durante il corteo che qui vediamo nelle immagini di Arezzo Notizie in un momento particolarmente delicato, in attesa della tanto agognata svolta societaria che possa garantire all'Arezzo un futuro certo e pieno di successi Grazie a tutti Grazie a tutti